Ciao a tutti ragazzi! Io sono Isabella e io sono Sara. Non mi vedo più perché sono abbastanza alta. Mamma mia! E' abbastanza alta. Basta. Comunque oggi faremo vedere la mia cosa. E poi la mia. Io non lo so se la facciamo vedere. Perché forse io non vado a casa sua e... Isabella, abbastati! Non ti vedi? Questo video sta andando fake. Dai faremo vedere questa casa. Avanti! Signora Isabella facciamo vedere la casa. E dietro! Ok dai andiamo. Agati! Signora Isabella. Iniziamo da qui. Prima di cominciare la stanza pulietà. La stanza metà te l'ho creata io perché quando i miei genitori mi hanno fatto arrabbiare. Ed eccola qui. Rotondo, rotondo, giro tondo. C'è Isabella la pazzola. Scusatemi per il telefono. Noi c'è qua la Isabella ballerina. Ehi, 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 attenzione. Facciamo un suonello. La faccio io. Ok, cominciamo da questo. Ma che cavolo è? Non lo sapevi, è bambore. Guardate la bicicletta di mio padre e delle tagliatelle di nonna. Guardate questa stupida macchina. Ci vediamo che possiamo finire qui di vedere questa stanza. Vabbè, ok. Poi vediamo questa. Ovviamente è quella che trovi qui all'inizio. Lo specchio dei YouTube bambini. Ok, ci vediamo un unico. Bagno! Oh, che schifo, non voglio mica vogliere. No, i miei cani, vieni. Cancellino. Per questo è chiedentino. C'entrano voi. Non mi baciare tutto il mio dito. Dai, andiamo. Scusate, non mi baciare tutto il mio dito. Scusate, non mi baciare tutto il mio dito. Allora, facciamo vedere la cosa. Non mi baciare tutto il mio dito. Allora, è stata tu, cagnolino 1-2. Ok, finaltro bagno. Credo che hanno fatto solo. Dai, dai peggio! Dai, dai peggio, Isano! No! Ok, un'altra. Ok, un'altra. Ok. Ah, ecco lei. Barbie! Ok, ciao, ciao. Facciamo vedere l'ultima due cose. Non possiamo far più vedere la stanza? La cucina! Finito il video? Ciao. Non è vero. Ok, ciao, ciao, ciao. Ci vediamo domani. Ci vediamo domani!